anche quest'anno è arrivato il momento di prendermi un piccolo break vado in vacanza sì ma vi lascio con delle anticipazioni quest'anno mi sono mosso in oriente perché proprio dall'oriente arrivano le migliori novità in generale almeno per quello che riguarda le ASG ve le avevo già anticipato non vi posso ancora anticipare niente ma la prossima stagione sarà ricca di contenuti appunto dall'oriente avremo una casa in particolare che sto cercando di seguire bene nel dettaglio che mi ha dato l'opportunità di poter visionare e valutare la nuova produzione ma tante altre cose ancora, Q&A che vi farò per rispondere alle vostre domande ci vedremo comunque a settembre carichi con novità incredibili mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto così vi posso sempre tenere aggiornati sulle ultime novità e ci rivediamo al prossimo video ciao l'abbiamo ciao